Un disavanzo di 12 milioni di euro è il dato che viene fuori dal bilancio pubblicato dal consorzio smaltimento rifiuti Salerno 4. I dati parlano chiaro, il consorzio è indissesso con un disavanzo milionario. La notizia arriva a poche ore da un altro scoop, quello annunciato dal presidente dell'Aiele Marcello Ametrano, che dopo aver difeso a denti stretti la poltrona di presidente dell'Aiele, dice di volersi dimettere per fare l'assessore comunale. La scelta di Ametrano è arrivata dopo il caso di incompatibilità apportato in consiglio comunale dal Movimento 5 Stelle con il capogruppo Pietro Miraldi. Aria di crisi e di rinnovamento dunque per il Corisa 4 e per l'Aiele. Sulla vicenda interviene Antonio Bruno del Partito Democratico che tiene a precisare al 31-12-2015 il Corisa 4 presenta un disavanzo totale di oltre 12 milioni di euro. Sarebbe interessante sapere chi alla fine della interminabile fase liquidatoria dovrà pagare. L'intero comparto della gestione rifiuti nel territorio di competenza del Salerno 4 presenta forti criticità sul piano debitorio e sarebbe davvero il caso di porre fine alla querelle Corisa 4-Aiele in modo tale da consentire a chi succederà a Marcello Ametrano alla Aiele di lavorare intensamente al risanamento della società. Tutto ciò rappresenta, dice Bruno, una pagina nera del nostro territorio e il messaggio che arriva al cittadino comune è devastante e la credibilità delle istituzioni ad essere ulteriormente scalfita da questa palese dimostrazione di cattiva gestione del denaro pubblico. Al di là delle responsabilità che molto probabilmente verranno accertate nelle sedi opportune bisogna iniziare a parlare della qualità della gestione del ciclo di rifiuti. Siamo Area Parco Nazionale, se non siamo in grado di gestire rifiuti forse è meglio fare meno convegni e concentrarci sulle soluzioni al problema. Non serve alla bacchetta magica, conclude Bruno, le soluzioni ci sono, per questo è necessario sedersi intorno ad un tavolo e decidere.